Un tempo l'estrazione dei biglietti della lotteria il 6 gennaio era un evento nazionale, capace di evocare sogni e speranze per una vincita allora miliardaria in lire ed oggi milionaria in euro. L'affermarsi di giochi con vincite da capogiro, si pensi alle estrazioni oltre i 100 milioni con il super enalotto, ha ridotto l'appeal della lotteria della Befana, che però continua ad avere un certo seguito. Quest'anno è stata la campania a fare la parte del Leone, accaparrandosi i primi tre biglietti estratti, rispettivamente da 5 milioni, da 2 milioni e mezzo e da 1 milione e mezzo, venduti a Sala Consilina, a Napoli e a Pompei, gli altri due in Umbria e Piemonte. In Sicilia solo premi di consolazione da 50 e 25 mila euro. Dieci in tutto i biglietti vincenti, quelli da 50 mila euro sono stati venduti a Siragusa, Giarre, Messina, Trapani e Castelvetrano, quelli da 25 mila euro a Paternò, Campo Felice di Roccella, Palermo, Cinisi e Castelvetrano.